Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornano anche quest'anno i giovani diplomatici in erba di IMUN, Italian Model United Nations. È la più grande simulazione di processi diplomatici in Italia e in Europa, organizzata dall'associazione internazionale United Network. Da oggi al 21 gennaio, Napoli ospita l'edizione campana del progetto, giunto alla quinta edizione, che coinvolge oltre 500 studenti di licei e istituti tecnici di tutte le province. Giornate altamente formative, in cui i partecipanti tratteranno in lingua inglese i temi della politica internazionale durante le simulazioni delle assemblee ONU e delle più importanti organizzazioni internazionali. Incentrato sul tema della crisi dei rifugiati, il progetto 2017 di IMUN Campania si tiene in diversi luoghi della città, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Galleria Principe di Napoli, e si concluderà sabato 21 al Teatro Acacia con una cerimonia di premiazioni alla presenza dei rappresentanti istituzionali. Il programma di IMUN Campania si arricchisce quest'anno di nuovi progetti che prevedono anche la simulazione di sedute del Parlamento italiano e del Parlamento europeo in lingua francese nell'Istituto Francese di Napoli alla presenza del Console Generale.